RICORDA COSA E' SUCCESSO QUI Lo farò Ma il mondo no Adesso cosa succede? Ghist avrà il compito di guidare l'eliminazione di tutto quel che rimane degli assassini Beh, Wix e gli altri lo assisteranno, ovvio Achille ha perso tutto ormai Non oserà lasciare la sua tenuta Infatti Shay Anche se la nostra ricerca dei siti dei precursori è alla fine, voglio la scatola Devi trovarla per l'ordine e per me Magari serviranno anni di ricerche Potrebbe essere ovunque a quest'ora Potrebbe volerci una vita Puoi accettare questa sfida Bene Incredibile Shay aveva quel potenziale Ho tutto quello che serve per completare la missione Un ultimo sforzo Devi caricare la storia di Shay Ma non in Elix Voglio che delle persone ben precise vedano ciò che abbiamo scoperto Per ringraziarti di quello che hai fatto Ti farò avere l'accesso al livello 3 Ti farò avere i problemi Sta tranquillo e segui le luci Non ti succederà nulla Ti ho mai fatto sbagliare direzioni? Segui le luci Dai, sbrigati zuccone Dipende tutto da questo Il comunicatore dovrebbe funzionare La confraternità degli assassini esiste ancora E continua a seguire la stessa stupida causa Io sono un cavaliere templare Proteggo il mondo dagli assassini Oggi Mi hai aiutato a fare il mio dovere Per favore Ripristina i server Ripristina i server Ozzo Berg La stella del programma di addestramento Animus Vediamo che sai fare Stronzo arrogante Se insisti, signor Cross Penso che il mio addestramento sarà completo a breve Tu che ne dici? Cosa c'è da ridere? Mi sbagliavo su di te Non sei arrogante Sei solo incredibilmente stupido Oh Il tuo corpo La tua mente Non ti appartengono più Non capisci? Ti rimangono solo le voci Io non soffro della tua condizione Le mie sessioni Animus sono state No, no, no! Le mie voci sono fantasmi Morti! Posso solo ripetere le stesse cose Continuamente Senza fermarsi mai Ma quelle nella tua testa Non moriranno mai E ora ti possiedono Io sono l'umile servo dell'ordine Non sei più nemmeno una persona Sei uno strumento Solo Un pupazzo Abbiamo finito E nel loro glorioso nuovo ordine mondiale Non ci sarà posto per i difettosi come noi Hai superato ogni mia aspettativa Usa quel terminale per caricare la storia di Shane nella rete degli assassini Ora è il momento di colpire Gli assassini di oggi sono deboli È solo questione di tempo E io li catturerò E li ucciderò Ma non mi basta che muoiano In Portogallo È successo come ad Aidi Un grosso terremoto Migliaia di morti per colpa del tuo manoscritto Portatelo fuori di qui Voglio che sappiano tutti quanto sono deboli E voglio che tutti li vedano soffrire Così quando mi incontreranno Farò loro un favore Uccidendoli Shane aveva ragione Lui che cosa sa? Più di me a quanto pare Il piano è in atto Non avrei nient'altro da chiederti Però La storia di Shane non è completa Mi piacerebbe che continuassi fino alla fine Sono davvero colpita Tuccone Ci hai dato una grossa mano Eh sì Sono un Templare anch'io Lo sono da anni C'è ancora una piccola Parte di dati di Shane da esplorare Secondo me dovresti andare a dare un'occhiata Mi piacerebbe che continuassi fino allando Di Grazie a tutti. 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 Hastings e Crane si infiltrarono nell'Abstergo Entertainment Montreal a fine 2013 e furono responsabili di furti di informazioni riservate. Non sappiamo se il virus che sta infettando i server Elix sia opera loro o se abbiano solo lasciato aperta una vulnerabilità per altri hacker. Le abilità di Rebecca Crane. come gli iniziati come gli iniziati come gli iniziati e che cerchino di portarli dalla parte degli assassini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prova adesso. Perché non funziona? Grazie a tutti. 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 Ci vediamo. a tutti. Grazie a tutti. via la... a tutti. 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 e... a tutti. a tutti. a tutti. e... a tutti. e... a tutti. e... sono scappati. a tutti. e... 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 a tutti. e... 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 ... e... e... ... e... e... ... ... ... ... ... e... e... ... 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 ...... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ...... 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 ... ...... 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 ......... ...... ...... ...... ...... ......... ...... 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